Ora varie ed eventuali. D'accordo, Villa Sweet Love. È un tranquillo paesino della campagna inglese. Oh, ma è un albergo con la spa. Anche fin troppo tranquillo. Dovranno passare sul mio cadavere. In realtà non sei così gentile e carino come credevo. Sei solo... Un pezzo di merda, lo so. E muoviti, andiamo. Un'immagine davvero sgradevole. Oh no! Buongiorno, Pugford. Quello chi è? Il tuo complice? Una miniserie in tre parti, in un'unica imperdibile serata. La sola cosa che dovrai fare sarà alzare la mano e votare. Vuoi un passaggio? Il seggio vacante. In prima visione esclusiva domenica alle 21.10. Su Sky Cinema 1.